Ad aggiudicarsi questo derby sono stati gli uomini di Mr. Farris per due reti a uno e allora pronti via al Colavolpe, passano due minuti e l'arbitro concede il calcio di rigore in favore dei padroni di casa eccolo qui, possiamo vedere il rigore per quanto riguarda l'arbitro non ci sono stati dubbi subito calcio di rigore appunto in favore del Terracina sul dischetto si è presentato il solito Genchi qui rivediamo anche a rilento, sembrerebbe solare questo rigore e allora vediamo Genchi che appunto spiazza il portiere e porta in vantaggio i suoi sempre nella prima frazione di gioco però adesso ora non ci sta e così Talamo che è stato anche convocato nella rappresentativa nazionale Under 21 regala il gol ai suoi, eccolo qui, al sedicesimo sempre nel primo tempo e poi ancora vediamo i festeggiamenti di Talamo e rivediamo anche il gol non lo rivediamo, il gol passa poi al 22esimo invece Tirelli per il Sora a regalare il gol della vittoria un euro-goal quello di Tirelli e quindi appunto i bianconeri possono festeggiare questi tre punti importantissimi e anche chiaramente il derby vinto e quindi